Benvenuti in questo nuovo video Oggi filmerò una nuova scoperta che ho appena fatto in giardino Allora, non so se potete vederlo Quella cosa marrone che vedete là è un nido Prima ho visto sporgere un becco E anche adesso sinceramente l'ho visto ma dopo si è ritirato dentro Peccato, ho visto per la prima volta un becco Allora vi spiego la storia di questo nido Io ho già avuto a che fare con dei uccellini perché ho salvato un uccello di nome Pippo che si trovava oltre i cancelli L'ho portato qui ed è rimasto qua per un sacco di tempo nutrito dalla sua mamma Ho fatto anche io esperienza a nutrirlo Ora, sarò pronta perché quando alcuni uccellini cadranno qua dovrò salvaguardarli e accudirli Allora, la mamma di solito un po' di giorni fa vedevo che era dentro il nido e si spuntava alla coda ma giusto ieri ho visto che la mamma era appesa ai bordi del nido Questo uccellino era nato Sono ancora molto molto piccoli perché adesso è molto piccolo e non ho ancora sentito i dori cinguettini Inoltre, sospetto anche che, ecco, è appena volata la mamma e il papà che vengono tutti i giorni che erano gli stessi mamma e papà dell'uccellino che ho salvato Anche qua dentro ci potrebbe essere un nido ma questa pianta è talmente fitta e spessa che non riesco a vederlo Ma vedo che i genitori cercano qua sotto il cibo e poi salgono su quindi anche qui ci deve essere un nido Che cosa incredibile! Due nisdi a casa mia! Vi terrò aggiornati per tutti i cambiamenti E questo video finisce qui! Ciao!